Maurizio Fondrest, un commento su queste prime tappe del Tour of the Alps e chi vedi come possibile vincitore della classifica generale? Ma da campionessa del mondo a campione del mondo non è male come intervista. Il Tour of the Alps ha dimostrato nelle prime due tappe, che erano praticamente i due arrivi in salita i più difficili, e hanno fatto vedere una stana molto forte. Però ad esempio un Ivan Sosa, che è un ragazzo di 20 anni, che con due terzi posti è in testa alla classifica, potrebbe tenere duro fino alla fine. Il problema è che sono molti ancora corridori con pochi secondi, quindi con squadre come la Stana, che sono molto forti, hanno anche Fulsang, che è molto vicino in classifica, e poi non dobbiamo dimenticare in ogni caso Chris Froome e anche il francese, Thibaut Pinot, perché saranno loro, penso che potranno giocarsi questo Tour of the Alps.